Si scrive forse una pagina importante della storia repubblicana, ci dovremmo essere per l'elezione del dodicesimo capo dello Stato. Ma guardi, io sono amico, come ha detto lei, di Sergio Mattarella, ma non mi fa vero l'amicizia se dico che questa candidatura al Quirinale è una candidatura di grande qualità. Anche coloro che hanno dichiarato di non votarlo hanno detto che è la persona giusta, nel senso che ha una storia personale, una biografia di esperienze istituzionali assolutamente di primo livello, una competenza anche professionale. Lui è un giurista, è un costituzionalista. Tutto ci porta a dire che è una persona adatta per questo ruolo. È una persona molto seria, una persona equilibrata, una persona che conosce la distinzione dei ruoli e quindi credo che non invaderà e non vorrà che sia invasa la sua competenza se sarà eletto. Ha una certa esperienza di tessitore. Tanti suoi colleghi in queste ore mi chiedono se è prevedibile qualche conflitto con Renzi. Capisco perché sono due temperamenti, due caratteri, due personalità molto diverse. Ma io credo che questa previsione non sia fondata nel senso che in un qualche modo sono anche complementari, proprio perché sono diversi. Ma soprattutto perché non è nell'indole del, auspichiamo prossimo Presidente della Repubblica, quello di aprire focolai. La sua indole lo porta piuttosto a spegnerli e a risolvere i problemi, a risolvere le tensioni, a risolvere i conflitti. Io faccio l'esempio del Mattarellum, che è la legge che porta il suo nome. Lui era all'indomani del referendum segni, era relatore di questa riforma elettorale. È una riforma difficilissima, siamo ancora nella prima Repubblica, nella cosiddetta prima Repubblica, perché la Repubblica è sempre la stessa. Bisogna situare anche questo giudizio sul Mattarellum in quel momento storico. C'era una tensione, c'era la resistenza di quel Parlamento al cambiamento. E c'erano tutti i conflitti che attraversavano la società italiana in quel momento. Era esploso Tangentopoli, insomma. E solo la sua pazienza e la sua intelligenza politica, perché bisogna sottolinearlo, ha fatto sì che si arrivasse a un punto di mediazione virtuoso con quella legge che faceva passare il nostro sistema dalla caratteristica di un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. E mise d'accordo da Violante, che seguiva questi problemi per il PDS, a Tatarella, che era invece l'esponente di Alleanza Nazionale. Quindi anche lì fu un'opera di tessitura, di cucitura. Di tessitura, ma è la sua personalità, la sua formazione. Grazie.